Il comunale di Piano Cesare ospita per la decima giornata dell'eccellenza il big match tra due piccole e grandi realtà del campionato Morro d'Oro e Paterno, rispettivamente quinta e seconda forza del torneo. De Eugenio deve rinunciare a Pella Nera infortunato e fa giocare al centro della difesa la coppia Casimirri-Intellini. Parte dalla panchina Gigi Collevecchio, il bomber della passata stagione in prestito al Ponte Vomano, e tornato in settimana in bianco-rosso. Iodice non può contare su Di Stefano, mentre Catagli e Pendenza non al top partono dalla panchina. Pronti via, è partita subito in salita per gli ospiti. Avvio bruciante dei padroni di casa al primo, svarione difensivo dell'esperto di Girolamo. Alessandro Ciannelli è velocissimo a soffiare di la sfera e servire la corrente Recchiuti, che non ci pensa su un attimo, e deposita in fondo al sacco per l'1-0. Galvanizzati dal vantaggio, i morresi vanno vicini al raddoppio in due occasioni. Al secondo, Alfredo Ciannelli se ne va sulla destra, il diagonale e la chiusura provvidenziale della difesa. Azione corale all'ottavo, Potacqui serve Alfredo Ciannelli sulla destra, il traversone per Alessandro Ciannelli, che in scivolata non ci arriva di un soffio. Al quattordicesimo, la risposta del paterno. Azione personale di Vinicio Paris, la gran sgroppata sulla sinistra e la conclusione con la parata di Di Gianmatteo. Passano tre minuti e ancora gli ospiti si fanno pericolosi. Punizione dalla sinistra di Albertazzi e deviazione di Iaboni alta oltre la traversa. Il paterno conquista campo e confeziona una grandissima occasione al ventottesimo. Grande intuizione di Paris, che vede Micciche sulla destra e lo serve. Il bel tiro al volo dell'esterno viene respinto da Di Gianmatteo. Carosone, da due passi, scheggia la traversa. E' immediata la risposta del Morrodoro, contropiede fulminante dei Biancorossi con Potacqui, che supera Di Girolamo in uscita e fa partire il diagonale. Alfredo Ciannelli e Amore rincorrono il pallone alla disperata, ma la sfera termina la sua corsa contro il palo e finisce fuori. Nella ripresa Iodice cambia qualcosa, fuori Albertazzi e Cordischi, dentro Catalli e Santucci. Il primo acuto però è del Morrodoro in avvio, punizione dalla sinistra di Gigi Potacqui e deviazione sotto misura di testa nel mucchio di Alessandro Ciannelli con la parata sulla linea di Di Girolamo. Vibranti si levano le proteste dei locali, che vorrebbero il gol, ma il direttore di gara d'amore non è dello stesso avviso. Passano due minuti e ancora un'azione da Moviola. Sugli sviluppi del corner, i biancorossi vorrebbero il calcio di rigore per questa chiusura di Gabrieli su Intellini, ma l'arbitro lascia correre. Al decimo viene allontanato dalla panchina biancorossa il trainer del Morrodoro, Domenico De Eugenio, per proteste. Passa appena un minuto e il paterno si fa pericoloso con questa punizione che attraversa tutta l'area senza che nessuno riesca a trovare la deviazione vincente. Ma è il Morrodoro ad avere le occasioni più pericolose. Al tredicesimo, conclusione dal limite di Alfredo Ciannelli che lambisce il palo. Un minuto più tardi, Morrodoro vicinissimo al raddoppio. Ciannelli sciò sulla destra, Alfredo se ne va sulla fascia e serve Alessandro. Provvidenziale il recupero in extremis di Iaboni. Poi Recchiuti, calcia sull'esterno della rete. La risposta del paterno al ventiduesimo. Conclusione dal limite di Catalli che termina di poco fuori. Passano pochi minuti e ancora Catalli si fa pericoloso su punizione. Questa volta smanaccia di Gian Matteo. Il Morrodoro risponde con una ripartenza veloce al ventisettesimo. Questa volta con Recchiuti che fa tutto bene ma temporeggia troppo al momento del tiro. e l'azione sfuma. Il paterno vuole strappare almeno un punto e alla mezz'ora Iodice mette in campo anche Pendenza che si unisce in avanti a Catalli e Miccichè. Al trentaquattresimo brutta Tegola per il Morrodoro che resta in dieci. Con questo fallo in Tellini rimedia il secondo giallo e viene espulso. Gli ultimi quindici minuti della partita sono una sofferenza per i padroni di casa con gli ospiti che spingono in avanti alla disperata ricerca del pari. Al quarantesimo girata di Iaboni che termina al fil di palo. Un minuto dopo punizione di Santucci per Pendenza. L'aggancio e la conclusione del centravanti con la gran risposta con i piedi di Gian Matteo. Il paterno spinge e al quarantaduesimo trova il pari. Traversone dalla sinistra e colpo di testa vincente di Gabrieli che vale l'uno a uno. Di fatto termina qui con il paterno che riesce a strappare un punto ma perde terreno in classifica nei confronti della Vastese mentre il Morrodoro conferma l'imbattibilità in casa anche se Masticamaro per l'occasione persa e retrimina nei confronti della terna arbitrale. Pesanti le parole a fine gara del tecnico Domenico Deugenio. L'unica cosa che mi dispiace è che io volevo giocare contro 11 invece ho giocato contro 14. Purtroppo succedevano queste cose e niente. Adesso capisco che succede quando non sei favorito e giochi contro una favorita. Spero che lo capiscono anche i miei giocatori così quando si devono chiudere le partite lo fanno e così con 2-3-0 forse non ci riusciva l'alberto a farci pareggiare. Io vedo la partita come è andata. Noi abbiamo preso un gol dopo un minuto per un errore nostro. È chiaro che poi la partita cambia perché il Morrodoro gioca 10 persone nella palla e noi facciamo la partita è chiaro che qualcosa rischi. Però se poi andiamo a analizzare la partita io credo che il primo tempo il Paterno abbia sciupato il minimo 4-5 palle colte. È chiaro che poi il secondo tempo qualcosa abbiamo rischiato ma lo sappiamo. Questo Morrodoro è una signora squadra, una squadra forte quindi se sta in classifica dietro a noi sicuramente qualcosa ha perché se no non ti trovi i tre punti dietro a noi.